Ciao ragazzi, sono Domenico, oggi siamo qua, vestito da pigiama per averti qui appunto che oggi alle 9 ci sarà un open lobby sul nostro team speak insieme a... Mi mancavo sentire queste parole Ah, madonna Insieme a Rabix, quindi potete farci le domande quel che volete, possiamo andare a giocare, appunto tutto sarà sorteggiato sul sito Strapol dove potete votare ciò che fare così da divertirci per tutta la serata Spero che siamo in tanti così da divertirci Come ai vecchi tempi Esatto, l'ho detto un'altra cosa, divertirci forse sì, forse no, non lo so Ci vediamo all'open lobby Forse sì, forse no, forse non lo so Ciao